Senza parole Ameria Radio presenta Parole di impresa con Umberto Alemini e Paolo Pellegrini Cari amiche radioascoltatici, cari amici radioascoltatori e imprenditori, buongiorno. Oggi per la nostra rubrica Parola di impresa ci faremo una domanda. Ma ho fatto veramente tutto? Innanzitutto scusate il rumore ma siamo in trasferta, quindi probabilmente sentirete qualche rumore di sottofondo. Ma ritornando a noi, che cosa significa ho fatto veramente tutto? Tutto questo, cari amici e cari amici, è lo scrupolo che ogni imprenditore la sera, quando in maniera esausta ritiene opportuno spegnere la luce della sua azienda, necessariamente si chiede questo. E ovviamente da lì in avanti c'è un po' lo scrupolo di tutto quello che in qualche modo si sarebbe potuto fare e chiaramente non è stato fatto. E' uno scrupolo assolutamente ragionevole ma che in qualche modo può essere nella sua logica edulcorato con una modalità abbastanza semplice che è la pianificazione. La pianificazione, la programmazione delle cose che devono essere fatte, cari amici e cari amici, in qualche modo edulcherà, lenisce questo dubbio. Anche perché il dubbio è direttamente proporzionale alla sensibilità dell'imprenditore e quindi magari potremmo sicuramente aver fatto tanto in questa giornata, però ci potrebbe essere la possibilità che la sensibilità dell'imprenditore, ai massimi livelli, lo metta nella condizione di avere degli scrupoli. Bene, questa cosa non è piacevole, non favorisce la normale e fisiologica gestione di un'impresa e quindi deve essere necessariamente edulcorata, necessariamente ridotta, temperata, mortificata da una seria pianificazione. E quindi step by step, tenendo ovviamente conto che nella vita, nella giornata lavorativa ci possono essere delle emergenze, però per le cose ordinarie, per gli aspetti che si riescono a programmare dobbiamo fare questo sforzo importante, questo sforzo enorme, perché in qualche modo avrà l'effetto domino di ridurre i nostri scupoli della sera, quando dopo che è spenta la luce, nel momento di serenità andremo a riflettere e dire ho fatto veramente di tutto e a quel punto è opportuno che la domanda evocativa, la risposta evocativa sia sì. E quindi, cari amici e cari amici, ad una pianificazione serena, ragionevole, può corrispondere a una risposta altrettanto precisa, serena e ragionevole. Bene, così l'invito a riflettere su questo aspetto che può sembrare magari di priorità 2, ma inviterei a pensare che insomma potrebbero non esserlo, io vi saluto, vi auguro una buonissima giornata dal vostro Umberto Lunni e dalla sempre vostra Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Lunni e Paolo Pellegrini. Senza Parole Senza Parole E va bene così Senza Parole Senza Parole